Questa sera andiamo a vedere lo spettacolo, oggi 2 settembre 2011 alla Villa Gorgia, settembre Leondino, c'è molta confusione, cerchiamo di superare gli ostacoli, la serata è bella, speriamo di trovare un posto, di trovare una sedia, oggi è la terza serata del settembre Leondino, c'è tanta gente, il palco è pieno di artisti, le sedie ci sono, forse ne troviamo più di una C'è l'imbarazzo della scelta, dove ci dobbiamo sedere? Ma questa che cos'è? Ma è acqua, ma sono bene di acqua, forse sta piovendo Vediamo se è acqua, proviamo E' acqua, caspita, allora sta piovendo Comunque, il pacco scenico è pieno Gli attori sono al loro posto, pronti ad esibirsi Abbiamo sul pacco scenico quattro sedie Quattro sedie Una, due, tre, quattro E una bottiglietta per dissedarsi Che c'è una bottiglietta d'acqua fuori Comunque, questa sera abbiamo l'imbarazzo della scelta Dove ci dobbiamo sedere? Dove ci dobbiamo sedere? Quale spettacolo dobbiamo seguire? Ma sta piovendo Sapete che vi dico? Io me ne vado a casa Buona visione a tutti, buonasera Viva il settembre leontino Buonasera, buonasera signore, buonasera Vi lascio, vi lascio sott'acqua Buonasera a tutti Buonasera, buonasera, buonasera Ma ci sono degli spettatori coraggiosi questa sera qua Buonasera signora, buonasera Buonasera anche a voi attori, buonasera Salve, vado a casa Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera